Ragazzi, direi che siamo in un nuovo video, soltanto che a questo punto faremo una cosa abbastanza strana Perché faremo una crossbar challenge con degli iscritti Allora, siccome mio fratello mi ha detto che è il compleanno di un suo amico Allora andremo lì, gli faremo una sorpresa Ora prendiamo chiave e tutto Facciamo l'entro con tutti i ragazzi Quindi sicuramente ci sarà qualche fan Faremo una crossbar challenge mega galattica con gli iscritti Quindi mi raccomando non la perdete che adesso a bomba Andiamo Intanto prendiamo il cavalletto e usciamo dalla macchina Spacco tutto adesso Inizio! Prima andata! Ciao! No, ci avevo messo una vita per aggiustare, per farlo dritto, mannaggia Ciao a tutti ragazzi, qua Omega, benvenuti in questo nuovo video Come appunto vi avevo anticipato in macchina Siamo qui con degli iscritti per fare una crossbar challenge Ragazzi, grido di battaglia Allora facciamo così, dite tutti i vostri nomi partendo da Davide Niccolò Domenico Michele Francesco Domenico Gabriele Andrea Claudio Vincenzo Allora ragazzi, siamo qui in questo video perché è appunto il compleanno di Claudio Sono venuti a voi a fare una sorpresa Quindi fate gli auguri a Claudio sotto i commenti Come vi avevo appunto detto, lui è mio fratello che si chiama Francesco Loro sono i suoi amici E quindi abbiamo pensato di venire qui per fare una sorpresa E fare una crossbar challenge Quindi adesso ci metteremo qui e inizieremo Secondo che non sarà una crossbar challenge normale Perché? Voi lo sapete perché? Sì Perché io l'ho già anticipato Ogni palo, più che palo, ogni traversa che verrà presa Ci saranno 50 euro dati da me Quindi dovete impegnarmi Ok, quindi detto questo direi che possiamo iniziare? Io primo Vamo L'ordine possiamo fare come volete Vai, chi prende la palla per il primo inizio? Eh, volevo dire Oddio Ok ragazzi, allora adesso iniziamo L'ordine sarà più o meno questo qui casuale Ora quindi mi metterò anche io in mezzo casuale Vi ricordiamo Ogni traversa che viene presa Ci saranno 50 euro In più, ovviamente Chi lo vuole dire di mettere mi piace al video? Mettete mi piace al video Commentate nei commenti Così le analytics di youtube portano Insomma avete capito Fino a quando iscrivetevi Lasciate un bellissimo like Scrivetevi al canale Bravi Almeno sono a memoria Quindi che dire Vai, puoi se iniziare Ma datene la gialla Ricordiamo ragazzi che finora non ha preso nessuno la traversa Sì, è andato proprio vicino Andrei, metto in un posto Allora io mi metto Mi metto, mi metto Davide, gira Io la prendo al primo colpo Ragazzi, sono tre giri di traversa a perso Ok Vai, vai, gioca Ragazzi, potremmo che prende una caversta? Io la prendo io Sì, sì Vabbè se la prende lui 50 euro I 50 euro ci dividono Ci tengo a precisare che non gioco a calcio da 6, 7 anni 5 Prendere il palla è troppo facile Facciamo l'incrocio Vai Michele Ok ragazzi Noi siamo di parola La prima 50 è per Michele Grazie Ed era uno dei più scarsi Così dicevano Tutti così Che fortuna Vai Rossi Allora, finora abbiamo uno solo che ha preso una traversa Questa è di combina di fare il pallonetto È più facile 10 Deci Ah A te, Lucio Vado a giubentino Silenzio per piacere Silenzio ragazzi Ti sei concentrato Facelo concentrarmi Zazza 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 Allora Ragazzi fategli un applauso Ragazzi fategli un applauso No Viv Volevo fare un applauso Qualca di te Non ci sono riuscito manco io Vabbè ragazzi Zazza E anche la seconda se ne sta andando Ok Olle Niente Vai ragazzi Adesso ci Tipo alto paglio Italia Marocco Da sotto la sappia C'è andato vicino Qua è? E basta Che rimandi in banca Attenzione perché ci è andato vicino Ci è andato vicino Questo è il secondo tentativo Di Omega Giù Ronaldo 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 Che ti fai fare? Che mi fai fare su YouTube? Alla Totti Oh mio Dio No Se non riusciamo a finire i soldi Si farà un quarto Un quinto giro Quindi Brava Bravo Oh 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 Sto facendo vicino Sì Sì Oh Zazza Zazza Jelsy Ragazzi sono più presto di me Ragazzi Zazza Zazza La facciamo tutti La tecnica zazza Tutti zazza Giù è la prima per lui Sì sì Zazza Zazza e abbassa ne avanzano per altre 4 traverse si ancora ce ne fa un'altra mi viene un infarto si fa un'altra ma che l'ho presa l'ho presa ma sei mostruoso cazzo l'hanno preso questo un mostro Ronaldinho spostati ma l'ha presa proprio di filo l'ha presa di filo mi sai che ha preso l'incrocio si ha preso l'incrocio e l'ha presa di filo no vabbò è sempre palo però è come l'ha presa mi sta diventando ricco ragazzi stasera la cena è il tuo compleanno ho finito comunque ci ripogliamo si sera bravo niente ragazzi sono obbligato a giocare a calcio venuti bravo no no peccato ronaldo 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 veniamo tutti ci diri direttamente la carta di gradi ronaldo ma volete assai si è la swipe tutti a dubai excel è l'ultima speriamo tu sei il primo che in sta ok ragazzi questo è l'ultimo giro quindi speriamo almeno luna mettetevi d'accordo oltre 4 potreste la prende dopo vinci ad arrivi un bel palo come ragazzi te l'ho detto che funziona devi alzartene tutto mi mantieni i soldi e vabbè così è come se tu vai alla banca e dici mantieni i soldi io ophy Chelsea no questo è dopato questo è doping questo è doping cioè adesso oltre le due dobbiamo aggiungerne un'altra gli interessi sono questi che l'ha fatta Complimenti, vai Ragazzi, io vorrei dire, siamo rimasti a quota 100 euro Mettetevi d'accordo Ah, ma stiamo a tocca a me, giusto? Sì Qui è davide, no? No, è liscio Funziona Come è possibile? Il vento, il vento me l'ha alzato Sì, stai Pensa Ok ragazzi, il giro sta per finire Chi è l'ultimo? Nicolò Nicolò è l'ultimo Mettetemi in fila bene Chi ha già tirato, andate più giù Ok ragazzi, ci sono gli ultimi 5 Prego No, mi ultimo 4 No Ma no, di pochissimo Però se era un rigore Se era un rigore era imparato Vabbè, mi è contento di una Dai Ho sempre i soldi Soldi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Madonna Si è disperato all'ultimo, poverino Ragazzi, tiro bonus per lui perché è il festeggiato e dire che ci sta Tu ti porto E visto che c'è per i quadrati L'ho preso al 250, poi sta al 50 Ma mi prendi bene Se puoi passare la palla qui in mezzo è poco Se n'era dentro Ma ammazzi sicuro Le ho presi, 150, capi? Sbar challenge è finita Direi che l'abbiamo finito Mi hanno spennato Adesso devo andare, non so In banca Non so cosa manca, cosa devo fare Mi se vi è piaciuto mi raccomando Dettete un bellissimo mi piace Iscrivetevi, commentate Tutto quello che volete perché Sarete voi Magari anche voi, non lo so Nei commenti ditemi qualcos'altro che volete vedere simile a questo Magari una sfida a basket o una cosa simile Sempre sul calcio Quindi mi raccomando Belli carichi Potete salutare tutti? Ciao Ciao Per questo video è tutto Noi ci becchiamo alla prossima Ciao Omega Progio Tua madre Me